Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto al tonno con pistacchi e limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono tonno sott'olio sgocciolato, pistacchi, basilico, prezzemolo, scorza di limone, succo di mezzo limone, parmigiano e olio. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i pistacchi, il parmigiano, la scorza di limone, il basilico e il prezzemolo ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il tonno, il succo di limone, e l'olio ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Il pesto è pronto, trasferire in contenitori di vetro. Pesto al tonno con pistacchi e limone, ideale per condire la pasta o crostini. Si conserva in frigo per sette giorni coperto con un filo d'olio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!